Musica Ben trovati su Double Trouble con me Audrey e qui Sasha Buon salve Oggi portiamo il gioco, finalmente Sasha ha un perché col suo nome chiaramente dell'est Europa Praticamente portiamo come gioco Paper Please L'abbiamo già portato in live e vedrete la live credo sabato prossimo in base a quando è uscito questo video intendo Ma ora inizieremo una nuova avventura Sì una nuova avventura, praticamente faccio provare questo gioco a Sasha, io già l'ho provato tempo addietro negli anni che furono E vediamo un po' come si comporta, anche se comunque ci alterneremo nelle scelte Vediamo come si comporta come controllore di frontiera Vediamo se sarà buono, se sarà cattivo, se sarà incorruttibile Basta poco ve lo dico Basta una birra Comunque andiamo, io direi che possiamo avviare, non mi ricordo i tasti, solo mouse Sì, devi fare però una nuova run Ah, come si fa? Nuova Nuova Congratulazioni Congratulazioni, grazie Lotteria del lavoro ottobre 82, la lotteria del lavoro di ottobre è terminata, è stato estratto il tuo nome Fai rapporto al ministero dell'accoglienza presso il presidio di frontiera Grestin per il collocamento immediato Alla tua famiglia verrà assegnato un appartamento di classe 8 a Grestin Est Ma che bei palazzoni sovietici mi piacciono Beh, se non hai fatto un giro a Prat e Roma Gloria Darstolska Grestin, presidio aperto dopo 6 anni, il ministero dell'accoglienza, quindi sono stati 6 anni Non me lo ricordavo dalla live Sono stati chiusi 6 anni praticamente Sì, famiglieri unit, sport, meteo Allora, sa, vieni pagato, te lo ricordo, per ogni persona che controlli Andiamo, veloci Veloci, veloci Mentre facciamo la prima parte, lei vi spiegherà come funziona Nel mentre ce lo spiegano da qua Ispettore, congratulazione per l'assunzione presso il presidio di frontiera di Grestin Timbrare il visto d'entrata sui passaporti e restituire documenti a richiedenti L'entrata è limitata ai soli cittadini di Darstolska Difiotare tutti i stradini di gloria Darstolska Vabbè, qua c'è il cazzabuffo La nazionalità, se non è scaduto Ma non penso che è scaduto in questo momento, ti interessa Vediamo Vediamo, apriamo il cancello con la prima persona Opla, cominciamo subito con il caldo Documenti, prego Allora, Darstolska, scaduto 25, 9, 83 No, tutto a posto E scaduto Ma che cotto, 83, 82? Ah no, 83 Allora, via, approviamo Approviamolo, via Vada, puoi timbrare dove ti parla Chiamo al prossimo Gloria Darstolska Salve signora Salve signora Allora, questa è l'infor Via, ciao, via Neanche controlliamo Via, rifiuti Via Signora, mi dispiace Sono cittadini di Darstolska Infatti Puoi chiamare il prossimo? Ragione, ragione, ragione Ma come va? Troppo veloce il tempo Eh, quello è il problema Salve signora Non è di Darstolska, via Repubblica Tanto io sfortunatamente cito Sono ore che siamo qua Eh, signora, se ne vada Ci sono già, signora Vai all'inferno Eh, siamo a Darstolska Ci sono già Quanto sono letti Forse, su, dai, su Su, su Documenti, prego Non è di Darstolska, vedi No, non è di Darstolska Quindi, vabbè, adesso andiamo proprio Ma basta che fare i colori dei passaporti, eh Eh, non mi ricordo mai Rosso, collecchia, marrone L'acquiletta è Darstolska Adesso dobbiamo guardare Ma ho già schiacciato Per favore, guarda Efficienza Iniziamo Documenti, prego Aprire questo prestigio Sì, vabbè Eh, allora rompi pure i coglioni Vale, la tua scatola Ci ho minacciato Documenti, prego No, import Questo è di import Quindi, via E fin qui Tutto facile Ah, ecco perché Quando se lo schiaccio troppo presto Dice Preparare i documenti Documenti, prego Questo è import Perché Non è che stiamo leggendo Chi sono Perché No, non ci interessa Non ci interessa Dobbiamo guadagnare i birmoni Ora che è facile Perché poi sarà più difficile Documenti, prego Non è di Astolska Questo Di Colecchia No Orvec Bonnor Dovrebbe essere Contro la mappa della regione 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 C'è Ma posto Via Ciao Dai 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 Perfetto Stanno tutto bene Stiamo mettendo 10 Siamo a 10 Ciao Questa è Di import Quindi si rifiuta A priori Il prossimo Dai 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 Che dobbiamo andare Dobbiamo farne un bordo Questa è quasi finita Astolska Questa è di Astolska C'è Rioni Gaston Tra parentesi Chiaro Nome Io vorrei Arrivare almeno a 13 Ehi sì C'è la finita la giornata No a 13 Non ce la faccio Mi ha fatto 11 Non mi ha fatto arrivare 11 Però dai 11 vanno bene Allora Quello che mi avete detto In live Che mi ha suggerito Anche lei Ma Era Perchè di fare Un giorno riscaldamento E un giorno cibo Sì Tanto tuo figlio Sa male sempre È un rompimento di cose Quindi Oggi Visto che non abbiamo Tantissimo Togliare il cibo Però Li lasciamo al caldo Li lasciamo al caldo Che secondo me È una buona Giusta Quindi Il primo giorno È andato bene Analisti ottimisti Prevista crescita Per commerci e cooperazioni Il presidio di Grestin È un successo Non è successo È un successo Perchè non è successo nulla Ancora non si è fatto esplodere nessuno Quindi direi che va super bene In base 24 novembre 119 Manca un mese Alla vigilia di Natale Ispettore Dalla data di hernia È permessa D'accesso Di stranieri Con passaporti In corso di validità Va bene Ho l'ispezione Che è questa Verificare attentamente Eventuali incongruenze Nei passaporti Rifiutare i credenti Con dati incongrui Vabbè Quello Vedete Ispezione Ti dice come si fa Ok A posto Cominciamo Andiamo Cominciamo subito Con uno di Colecchia Lo sento Colecchia dici? E Federazione Unita Ok Maestra e Lillia Grit rapid Esiste Sì 2283 F Scadenza Ci sta Vai dai Mi fido signora Vada Mi fido la mia memoria Amico L'abito io Vada No signora Stavo parlando con lei Non con te No Documenti prego Questo è di integria Scaduto È scaduto Quindi Tac E tac Sull'orologino In congruenza rilevata Interroghiamolo Non può entrare Documento è scaduto Come è possibile Io appena rinnovato Ecco allora Faccio a fare un altro giro Vai a farlo Rivedere Così Non ci cagli il cazzo Il prossimo Il prossimo Dai 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 Poi arriveranno tempi duri Documenti prego Federazione Unita 83 Quindi Great Rapid Esiste? Sì L'autobus tra poco Allora mi rompere già i coglioni Eh Allora ci vuono Sì foto No Sì però c'è La foto va bene Tu dici? Sì 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 Prendi le sensibilità di questa scelta Facciamolo andare Finalmente Vaffanculo Io so che tu perda l'autobus Guarda ti devi passare proprio davanti così Chi è che sei? Documenti prego Tutto apposto Vedor Non mi ricordo se è di Colecchia Controlla un attimo Vediamo Mappa della regione Colecchia Vedor Esiste? Scade nell'83 Quindi Rivederci benvenuta da Storska Facciamola andare Scita sua Ma se io quasi quasi mi Lascialo là Lascialo là per adesso Vabbè ormai lo Questa è di Vastorska Sembra annoiato Se vuoi divertimento Vabbè Ah questa Se sei una zozzona Non ti controllo nemmeno Ti faccio passare Questa qua È del Pink Voice Questo diamola a qualcuno Possiamo darla a qualcuno? Penso di sì Rallegramo qualcuno Che entra a Colecchia No a Storska Dove che cazzo sia Documenti prego A Storska La signora Sembra lei Corista City Non me lo ricordo Controlliamola Sì perché finché non impari A memoria i posti Attentato No E mo? Spara no? Oh E che fa? Quindi Si sono uccisi Si sono uccisi A posto Ne abbiamo fatto solo sette persone Lo sguardo è automatico Immagino Allora L'ha tentato a prescindere Però tipo Ok Giornata interrotta per attacco terroristico Tuo figlio ha bisogno di medicine In progressi Vabbè Vabbè Allora io leverei riscaldamento Io Gli direvo riscaldamento Mia figlia Sta sempre male Sto bastardo Non gli elevi qualcosa Sto bambino Sta male 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 Io veramente Lo E niente Dormiamo Lo manderei in adozione Giro di vita al presidio Più guardie Più sorveglianza E sospettati Sospettati I terroristi Della colleghia Noi ci bloccheranno sicuramente i collecchiani Speriamo Così abbiamo una roba in meno da controllare Io posso dire che da quando abbiamo fatto la live Non mi ricordo quasi un cazzo E si nota L'entrata dei non cittadini Ora regolamentata Tutti gli stranieri Necessito di regolare il cedolino d'entrata Verificare le prime di timbrare Visto di entrata Sul passaporto Restituire tutti i documenti E richiedenti Gloria Darstorska Dobbiamo controllare che si Che il cedolino è in base al giorno Ah è giornaliero Non ha una stanza Non è tipo scadenza È giornaliero Ok Ok salve Signora Madonna signora Che faccia spostata Però anche nella foto Varita 25.11 25.9 È giusto Io direi che la facciamo passare La prima non sembra fregarci La signora Vada signora Vadi Hai fatto preparare Vadi 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 Non si preoccupi Allora Il secondo Sicuramente non ci darà il cedolino Infatti Madonna mia Ok Norme base Norme base Daniele Solo non cedolino Nel tra Vediamo cosa ci dà Quando si dice C'è lui qui Allora me lo potevi dare prima Testa di cazzo 5.11 Quindi è giusto Boston non è giusto Non è Repubblica? Non mi ricordo Mappa della regione Repubblica Boston Ok sì È giusto È giusto Volevo non farlo passare Per questa storia Dai il cedolino Il prossimo Dai 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 Sì ma Quando io chiedi Poi Signora Chiedemelo subito Signora è di import È di import Va bene Se ci dai divertimento Passa Questa Non ci importi Tanto la luce è spenta Non si vede Infatti hai visto Che era Documenti Prego Ma che bell'uomo Ah no Me l'ha dato 25.12 È scaduto il documento È scaduto questo Congrenza rilevata Adesso Errori di stampa Eh allora Vabbè Farti fare un'altra stampa Dai Muoviti Muoviamoci Io che lentezza Forza Su 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 Volete entrare O non ho saputo Documenti Prego Allora Vera Glorian Nell'84 25 Vera Glorian Si è sicuro che sia Guerra carina Vera Glorian Eccolo là L'ho visto io Sì C'è Sì sì Si era aperta Già Su Ah ok Su Repubblico Ok Il petto Vada Il prossimo Grazie signor Che ore sono Ma sulle undicissime Abbiamo fatti 5 Documenti Prego Impor Allora Impor 12 No Non va bene Bravo Non puoi entrare Oggi Di cosa Parle Scusa Entra Tra due Settimane Ci vediamo Tra due Settimane Se devi andare Adesso Fare la visita Dentistar Il prossimo Dai E adesso È ancora semplice Poi si complica L'idea del Dio Allora Signora Signora Dio Santissimo Cedolino Gli stranieri Gli stranieri Hanno bisogno Di decidere Ah ma questo È di Astorska Sì 83 La foto è lei Giurcositi Giurcositi Vediamo se Se è qua Mappa della regione Astorska Giurcositi E infatti Orco Brava Odri No Su lì Ok Vai interroga Interroga Non ne so niente Non ne so niente E te mandiamo a casa Vai Filare Non fare Non Non tirare fuori il lombardo Che mi sembra il caso Ok Salve Ecco qui Gloria da Astorska E partiamo bene Il paese migliore Stagiare e cambia il culo Via E Signore Norma di base Richiedenti con passaporte Qualsiasi cosa Passaporte richiesto Ok ho capito Vabbè ma Non è un Perché mi ha mandato l'ammunizione Non è un'ammunizione Ti stava dicendo Suamente cosa devi fare Ah ok Però non capisco perché Documenti Arstorska Grestinest Grestinest Esiste Arstorska La foto è la sua Dai vai Sofia vai Vai Sofia Torna a casa Vai vai 9 9 Questo qua è il decimo Allora No è nono La nona La decima E maio Signora E no Ma non è lei E comunque Gli anni sono stati crudeli Ma io Non abbiamo modo di scoprirlo Quindi o ti fidi O non ti fidi Non ti fidi Non mi vido Ma che cazzo Ma che cazzo Signora Ritorni a casa E gli anni Sono la crudeltà Più crudele Vediamo che non è vero Il monumento No no Ok c'ha detto giusto Ho sbagliato Scusi signore Documenti prego Allora Repubblica Non mi ricordo Repubblica Non mi ricordo Sì Via Sì È giusto Cedolino 25 11 Lei è lui Lei è un bel baffone Anni e tante Vai 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 Altri 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 Dai che c'è un figlio malato Su Allora Questo qua è l'undicesimo Quindi Sì A dodicesimo Sì Godosca Rebecca Shingleton Sì Scaduto Scaduto Il passaporto Scaduto Il passaporto Ok Che signora Lei è l'ultima No L'ultima No Ce la fa fa un'altra Uuu Al pelo Ah no Ho visto che lampeggiava Pensavo Si Comincia a lampeggia Dai su Allora Collecchia Diciamo Scaduto No no Ah beh sì Però non è aggiornata Sì Oh Oh cosa Dai filare Oh Oh Ci abbiamo fatto Parlando Riuscii ad entrare In alto Di beccano a mangiare la sedia Collecchia sempre Collecchiano Paradisna Vabbè questo può andare Ci vuole con calma Fermo di beccano Perché tanto è finito Facciamo così Bravo Qua siamo a Colecchia Che non c'è Paradisna Non esiste paradisna Collecchia Signora Oh Non capisco Capisci questo Signora E' fortunata Che io non posso Ancora arrestare E quindi Se ne va via Così O se è venuta Tra qualche giorno Tornata E domattina Alle 6 Comunque Abbiamo tirato giù Un bel po' di Affitto 20 Riscaldamento Cibo Hanno freddo Quindi io gli darei Il riscaldamento Ma gli tolgo Il cibo Però il figlio Si ammala Solo quando Gli togliamo Il cibo Quindi Fatto di carta Pesta Gli togliamo Il cibo Abbiamo 70 Chiudiamo Con 75 Dai Chiudiamo bene Come due giorni Pum E' percato nero Il governo Troppe immigrazioni facili Rimandato L'ampliamento Del presidio Camminiamo al lavoro Nel nostro terzo giorno Di lavoro Questo 26 novembre 1982 E' già una munizione Ispettore La regolamentazione Sulle credenziali D'entrata Era più stringente I cittadini D'Ostroska Dovranno esibire Una carta d'identità I stravieni Dovranno Ottenere Ed esibire Un permesso D'entrata Quindi non c'è più Il cedolino Ok Vabbè Queste sono solite cose A noi Frega Cauzzi Andiamo Non è che siamo Molto comprensivi Qui in zona No io dipende Chi mi fa Documenti Prego Allora Questo E' Enco Visita 30 giorni Quindi è giusto Peccato che No Dimitri Yuri No Dimitri Enco E' lui Stava Sì Andata Dai Il primo della giornata Non ci frega E' l'amica Vero Beh oddio Lei chi è Documenti prego Ok Lei è un'antegria Che di solito Non ci credo Jessen Hidelbrow Sì Immigra per sempre Tv Sembra lui Outer Cruise Sì Sembra lui Outer Cruise Esiste Sì Se non erro Sì Però non ti fidare Ciacamente Così è in particolare 83 Scadenza 28 10 E' scaduto E' scaduto Figlio di troia Come fai a averlo già scaduto Se l'hanno appena messo Vabbè Magia Potevo venire solo ora Eh L'hai fatto prima che lo Vai a fartelo rifare L'hanno messo Stanotte L'hanno messo L'hanno messo L'hanno messo Io ti trovo Allora Salve signore Documenti prego Allora No no Guarda già Vi chiede No ciao Quindi documenti Io devi spiegare pure Permesso d'entrata No 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 Come si fa? No Come si fa? Vai Vai Esci da qua Allora Sono lì Torna indietro Norme base Norme Ah da qua è vero Stai lì sono con permesso d'entrata Intrutenza rilevata Tu non ce l'avrai Intanto io mi porto avanti Perché ho perso tempo Sì 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 Fa passare me Ciao Dai ciao Ma vai per favore Dai che a me mi pagano gente Dai vai via Sta andando male oggi Sta andando molto molto male Eh sì Questo ci ha fatto perdere tempo Documenti prego Allora Questo Immigrazione unite Shingerton Sì sì Immigrazione per sempre Immigro in Astorska Che cool Andrius Salius Uggg 84 Sì sì c'è tutto 19 12 82 Quindi a posto questo Sì è tutto a posto Marco 2 Allora mi sape Dai vai vai Vediamo se arriva qua Sì Non dovremmo aver sbagliato nei documenti Prego No import Import Faccio avviso al mio figlio Prima i sei anni Durato il soggiorno Sei mesi 4 Ciao zia Tuo figlio Non ti vedrà Ti posso garantire che fa bellissima vita Sì 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 Lo so Questa è la seconda Riccivivo all'interno Ho mio figlio che si ammala Semplice Vuole il dono Anche mio figlio Allora Antegria Antegria Lavoro Ma tutto Cioè Però Perché vuoi filare Perché io Non lo so La gente non sa Sì che mi fido E certo Sì è vero Vengo per lavorare due giorni Poi casualmente Mi ricordo che devo lavorare Per otto settimane Ma avrà stato un laptops Sì Avrà stato Avrà stato un laptops 83 8 12 82 Di passare Due settimane GL GL Dobroska Nelly Boston Sì Ah sì Due nomi completamente diversi Questi nomi non coincidono Ho cambiato nome di recente Ah impronta Possiamo effettivamente Facciamo le impronte digitali È vero È vero Nessun alias No Eh signora Lei se ne va a casa Neanche controlliamo le impronte Come si fa Con nessun alias Vai nessun alias No E vai sul nome Quello a uno di due Compulenza elevata Ciao signora Non posso confermare Il tuo alias Oh Ciao L'impronte Ce le teniamo noi Così La prossima volta Sì Veniamo a cercare Allora Eh Jimmy Giorgi Eh mi dispiace Ah guarda Io io Allora è preapprovato È preapprovato Quindi mi sembra Sarà rifiutare Però signora Glielo devo rifiutare Mi dispiace Mi dispiace Giorgi Cobra Stanno Un po' è Cobra Stanno Dai A te Il cobracai Il cobracai Regione del cobracai Allora La signorina Signorina Salve Ah La nostra schiava Con la carta di identità 56 kg 1,71 20,10,51 Salire Vada dai Octovalis Sì 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 Se non lo esiste Voglio fidarmi Della mia memoria Del distretto Octovalis Vediamo Dai Dai Dimmi che abbiamo fatto tutto giusto Sì Ok Documenti prego Salve Oh Una bella signorina Bella Rispetto a quello che arriva Solitamente Mi era vivere con suo marito Niente Faccio 15 12 Ma che cosa Che sono due persone diverse Ma no cazzo Sono due persone diverse Interroga L'ospetto è cambiato È vecchia foto È avuto un miglioramento Non da poco Posso dire Si è migliorata tantissimo Signora Dimmi come hai fatto Nessun alias noto Ma questo non ci interessa Sì Sembrano coincide Date coincidenti Ma comunque signora Mi complimento Ottimo Hai avuto un miglioramento Non da poco Approviamo Taglio di capelli Non ho controllato Il permesso d'entrata Non ho controllato Il permesso d'entrata Ci ha detto bene Che buccia di curo Ok Allora Documenti prego Signora faccia bene le sopracciglia E lei Allora 17 11 18 Signora Lei non viene a vivere con suo marito E credo che lui Non sia neanche troppo scontento Dove è buono Non sono di queste storie Si trovi un altro marito Dai Via 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 Corriamo Quanti ne abbiamo fatto? Eh no Aspetta 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 Andata fuori fuoco là Documenti prego Scopo del via Allora Scusate ma L'altra non è passata E dove andate a vivere con il marito Allora 84 24 ore c'è 82 Per sempre Non mi riproposava detto Per sempre Sì sì Non mi ricordo se c'è Porco cane Bisogna perdere tempo E dove è questo? Fufufufu Sì esiste Dai Vada 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 Fatti salire con tua moglie Che non so convinta Che sia una buona idea Potevi rimanere nelle Nazioni Unite Il prossimo Il prossimo Qualsiasi cosa tu abbia detto Non è importante Potremmo restare? No No certo Ciao Giorgi Dai zio Vai via via Voglio fare un altro Il prossimo Non ce l'ho fatto L'aveva detto Il prossimo Allora Vediamo come si conclude Il giorno 4 Tuo figlio ha bisogno di medicina L'affitto è aumentato Su che base? A caso A caso Così Però loro hanno fame Quindi io gli lascerei il cibo E gli tolgo Il riscaldamento Sì mi sembra una cosa da padre Giusto E Novanta Comunque abbiamo fatto Un piccolo setup Quindi io direi Che va benissimo Vabbè Dormiamo tristi Della nostra vita Sì Molto tristi Della nostra vita Atleta di Repubblica Ricercato per omicidio Vince Lestrade Irreperibile Probabile la fuga Chi è davvero Vince Lestrade? Finanzata Forse uccisa In un ratus Di gelosia Quindi dobbiamo ricordarci Sto nome Vince Lestrade E lo vengo Allora sicuramente americano Amergano Vediamo il passaporto Se viene oggi O viene domani Non si sa L'ispettore è ora Autorizzato ad arrestare Gli individui Sospetti La mi piace Interrogare in merito All'incongruenze Ok Solite cose Andiamo 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 Porca trovo C'ho la testo facile Io Allora documenti prego Allora Tu sei di Antegria Other grows Quanti del soggiorno Solo due giorni Transito Sì però non coincide lì Bravi C'è il testo Yes È sicuramente errore Arresto Via Non mi interessa Non bisogna perdere tempo Fuori Dai Via Se viene con documenti falsi Bisogna arrestarti Perché vuol dire che li modifichi Salve signore Documenti prego Allora Allora Armando 12 Viene 12 settimane Un anno Armando No devi prendere Prima le cose lì Cioè Don call money Don call money Armando Cioè Interrogare Sì ho sbagliato Io vengo un anno Eh certo 4738 Ma vento Però tutto il resto è giusto Sì Facciamolo passare normale Come cosa Di non ricordarsi Per quanto tempo Viene a lavorare qua Ma sì Siamo buoni Il prossimo Ma ricordo E non è un anno A lavorare un po' No Data distrenza Non conforme Oh senti eh Scopo del viaggio Sono di passaggio Passare tutti Durato a soggiorno 14 giorni Visi le strade Tra parentesi Non so come si fa Da dove è che lo devo prendere? Che caso mi so Ehm Aspetta ci sarà qualcosa Che non torna Qua 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 Atleta Ha ricercato Via in se le strade Via in se le strade Ma noi vogliamo veramente farlo arrestare È veramente colpevole Secondo te? E non lo so Lo facciamo passare? Decidi subito Veloce Facciamolo passare Ci senti in cuor tuo Che non è colpevole Vai Sì Proviamo Dai Proviamo Mi fido eh Mi fido Infatti non ci daranno Avevava tutto giusto Sì sì Non è arrivato Il solo movimento Ma E poi Armando però Sono in trance Signore C'è Norme base Norme base Norme base Solo richiedenti Solo complesso L'entrata Interroga Ecco Ma perché non me l'hai dato prima Testa di cazzo 2282 TN TN Arash Viberami Arash Viberami Viberami Arash Ma proprio giusto Voleva andare a panculo Invece no Non si può Se no prendiamo Parco cane Parco cane Via 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 Questi Vorremmo andare proprio a casa Sotto arresto Dai che Ne abbiamo fatti pochi Ne abbiamo fatti pochi Documenti prego Allora Questo è Delle Nazioni Unite Trasito Due giorni Grotto soggiorno Due giorni 2612 10 9 Corista City Sei sicuro che sia di collo? Corista City Corista City Mappa della Ragione Mappa della Ragione Mappa della Ragione Mappa della Ragione Corista Sì dai vai Ogni volta ci cascamo Tutto qua di cose Cazzo non ho visto il nome C'era il Zambale Sì 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 Siamo lì Mezzogiorno E questo è il sesto Che poi Che poi sei soltanto bravi Quando passano Quel cazzetto A trovare le incongruenze Che abbiamo sbagliato Ma lo facessero là No 27 Outer Groose Era giusto La relazione di giusto No Come no? Eh no Outer Groose Mi sa che di Antegria Non ne so nienti Dai che viene qua Arresto Dai I documenti falsi Bisogna arrestare No 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 Ci mancherebbe Vuol dire che è Contrafatto dei documenti No no ma ti pare? Ti pare Ti dico qualcosa Mi dia i documenti Vedere amici E ti faccio vedere io Gli amici Dai forza Tira fuori sto cacchio De cose Norme base Norme base Passaporto Il primo Poi fa Ecco Ecco Trova qualcosa Buttiamolo fuori 84 21 12 82 È giusto È giusto Due mesi Aveva detto due mesi È giusto 60 giorni Vai vai che tempo passa Pronto quando è così Non li puoi Cioè sai cos'è la cosa Che ti fa incazzare Questo gioco Quando arrivano sti cretini Non puoi mandarli via No Perché sono giusti Tu li odi Con tutto Se no ti ammoniscono Eh già Allora vediamo qua Antegria San Marmero Ci sta è giusto Vosco Immigrazione Per sempre Finalmente siamo libri Da terra nera di Antegria Ma non mi ha detto il perché Perché si si trasferisce per sempre Pioto Avrostock Sì Rstu Va bene dai Sfidiamoci Dai vai Grazie mille Tua moglie non entra Se non c'è i documenti giusti Tua moglie Se i documenti giusti Però mi dispiacerebbe Vabbè Abbiamo già un'ammunizione Abbiamo già un'ammunizione All'amore non si comanda E fa la passata Rompi coglioni Dai Non si controlla nemmeno I documenti Lui tanto contento Sapeva che l'avremmo Cacciata via Ma se gira Sì la ritrova Dicendo a me cazzo Oh Ho sbroccato Un achievement Antegria Ammonimento Eh ok Tanto al terzo Mi danno Ultimo ammonimento Prima della penalti Ok Speriamo di non sbagliare I prossimi Marcos Perloboschi Perloboschi in marzo 17 84 12 12 82 Un mese Quanto cazzo ha detto Rimango poche settimane Un mese Sì ci sta Va bene Visita era Vedere amici Visita Due Mese T'ammazzano Gli amici Corristati Sì Corristatitis Fidati Ogni volta controlliamo Corristatitis Non me lo ricordo mai Vediamo Vediamo come va Vediamo come va Il prossimo Il prossimo Siamo a 11 Quindi 10 L'abbiamo superati Che meno male E da qui in poi Passare Terrorista Ricatina Svetlana Ricatina Ricatina Svetlana 12 settimane Ma di 3 mesi 8 12 82 30 10 Ciao Non lavori Non ti posso Non ti posso Non ti posso Non so che dire Di che vai a rifare i documenti Scema pagliaccia Che poi Devi dire Che quando dicono Quanto è Quanto è sta 3 mesi 15 12 settimane Lordsan Esiste Non mi ricordo Non mi ricordo Credo di sì Ma non voglio farti sbagliare Obristan Sì È giusto 6 mesi 13 12 82 Quanto ha detto Per favore Controlla quanto tempo ha detto 6 mesi 6 mesi Metà No 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 Il cognome Il nome è diverso Bravo Bravo Dai improntine Ho cambiato nome di recente Controlliamo signora Se ci sono Alias noti o no Quindi devo Devo chiarire Giusto? Sì Ok No no Vabbè Ciao Ok È finita la giornata lavorativa Quindi La proviamo Arrivederci signora Buon per lei Benvenuta a Darth Horska E questo è il quinto giorno E il quinto giorno è andato molto bene Direi Abbiamo preso un coin Qua Ve lo faccio vedere Qua c'è uno prima Eh Chissà chi c'è Miglioria guardiola Visto che tanto Non daremo da mangiare Alla nostra famiglia Guarda la calzatrice Per la modalità di espressione Ci sta Perché io prima Cercavo ogni tanto di schiacciare Perché ero abituato Allora anche abbiamo fatto su Twitch Ma Non ce l'ho fatta Non ti dimenticare di togliere il cibo Per favore Cibo via Oh Cento soldini abbiamo Quindi Il prossimo giorno Te lo staranno malissimo No Solo tuo figlio Avrà bisogno delle medicine Perché poi loro Cioè Questo bambino Quindi io direi Che possiamo dormire Ma possiamo anche Salutarci qua Perché Continueremo In un prossimo episodio Continueremo nel prossimo episodio Per vedere le avventure Del L'ha detto La dogana Trabole Lo chiameremo così Lo chiameremo Trabole L'ha detto la dogana E vediamo un po' Che cosa combina E come vi ho detto Ci alterneremo Quindi non so nel prossimo episodio Chi troverete Al comando Della guardiola Ma Chiunque dei due sia Abbiamo capito Che non c'è Andrà male C'è una rimanera Qui Si arrestano tutti Quindi niente ragazzi Non ci rimane che salutarvi Se l'episodio vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale E vi ricordo anche Di seguirci su tutti i social Che trovate sotto In descrizione E ci vediamo Alla prossima Bella